Se ne stava tranquillamente al bar mentre sulla testa pendeva un ordine di carcerazione per spaccio di droga. Un cittadino nigeriano di 34 anni è stato fermato e condotto in carcere dagli agenti delle volanti della questura. Ad individuarlo nel pomeriggio di ieri i poliziotti nel corso di un controllo per verificare il rispetto delle norme anti-covid all'interno di un locale in corso San Felice Fortunato in città. L'uomo ora rinchiuso al carcere di Vicenza dovrà scontare una pena di 9 mesi e 26 giorni di reclusione.